Era cominciata male, era finita peggio la domenica del derby di Lega Pro tra Salernetana e Nocerina. Iniziata con 38 minuti di ritardo, la partita si era conclusa dopo soli 20 minuti. Gli ospiti, che avevano effettuato subito le tre sostituzioni a disposizione tra i fischi del pubblico, avevano accusato cinque infortuni ed erano rimasti in campo in sei, costringendo l'arbitro allo stop. La partita, in programma alle 12.30 del 10 novembre 2013, era cominciata dopo le 13. Le squadre erano scese in campo agli ordini del direttore di gara Sacchi di Macerata. Sugli spalti dell'Arechi di Salerno solo i tifosi della Salernetana, dopo il divieto disposto dal prefetto per gli ospiti. Proprio per questo motivo la partita era stata a lungo indubbio. I giocatori della Nocerina in un primo momento si erano infatti rifiutati di scendere dal pullman regolarmente parcheggiato all'interno del perimetro dello stadio. Gli atleti rossoneri sostenevano di essere stati minacciati dalla loro tifoseria, contrariata per non aver potuto raggiungere Salerno in seguito al divieto di accesso allo stadio per i tifosi ospiti disposto dal prefetto. Poi gli stessi calciatori della Nocerina, dopo le rassicurazioni del questore Antonio De Jesu, avevano accettato di scendere in campo, ma la partita si era trasformata in una farsa. Durante i pochi minuti di gioco lo stadio Arechi di Salerno era stato sorvolato da un aereo ultraleggero che mostrava uno striscione con la scritta rispetto per Nocera e per gli Ultra. Le indagini avevano permesso di appurare che l'antefatto del derby della Rechi era andato in scena a Mercato San Severino, dove una parte della tifoseria nella primissima mattinata aveva raggiunto il ritiro della squadra Molossa. Risultato immediato di quella domenica. La procura della FIGC aveva deferito alla disciplinare la Nocerina e 17 suoi tesserati, 11 dei quali calciatori per il cosiddetto derby Farsi. Se sarà un processo mediatico, secondo me, spirali non ce ne sono per la Nocerina. Se invece vogliamo applicare la giustizia sportiva e con serenità il giudice prenderà atto ovviamente sia delle accuse e sia ovviamente delle difese che hanno depositato i propri iscritti, dovrà propendere ad avere una tranquillità e una serenità, di non essere attaccato mediaticamente perché questo è un processo fra istituzioni. Perché se noi andiamo nella cronologia dei fatti, abbiamo avuto uno scarico a barrile qual è stata la vittima? La Nocerina. E' ovviamente il circondario di Nocera in fediore che ha compreso l'intero angolo. Manifestando su una città che ha delle tradizioni alle spalle, che non si possono ovviamente dimenticare, ma si devono rivendicare. E quindi in quella sede, se effettivamente il giudice, l'avvocato artico, esaminerà con una certa tranquillità, con una certa esperienza e senza essere attaccato mediaticamente, può avere quelle sorti di avere una giustizia vera e non ovviamente falsata da questo attacco mediatico.